Masha e Orso. Le parole gentili. Per star bene in compagnia non ti serve una magia. Parole gentili ti basterà usare. Scaldano il cuore e il sorriso fan sbocciare. Il buongiorno si vede dal mattino. Parola di Masha Folletto Birichino. Regala un saluto, fallo col cuore. Anche al più musone tornerà il buon umore. Non serve litigare per avere ragione, né essere testardi, né cambiare mai opinione. Con le parole magiche ogni cosa può accadere e con posto e per favore tutto quanto puoi ottenere. È bello un buon pranzetto col tuo amico prediletto, ma il pranzo sarà ancora più gradito se prima di mangiare dirai buon appetito. Se un pasticcio hai combinato, non c'è nulla di sbagliato. Una cosa devi fare, chiedi scusa e prova a rimediare. Masha si sa, è una peste scatenata, ma di certo una cosa l'ha imparata. Se qualcuno con te gentile è stato, un grazie sincero sarà molto apprezzato. Il compleanno sarà perfetto con fiori, torta e un bel pacchetto, ma se vuoi che la festa sia speciale, tanti auguri di cuore devi cantare. Gli amici l'un l'altro si prendono cura, si fanno coraggio se hanno paura, ridono in allegria, giocano insieme e sanno sempre dirsi ti voglio bene. Dopo aver saltato per tutta una giornata, ecco che l'ora della nanna è già arrivata. Non fare i capricci, non stare a protestare, di buonanotte e mettiti a sognare. Se hai un amico a cui vuoi molto bene, non c'è più mio o tuo, si fa tutto insieme e quando c'è un lavoro più duro da affrontare, si dice ti aiuto e ci si dà da fare. C'è una parola gentile per ogni occasione e una parola ben spesa va al più di un milione, ma non sempre parlare è la cosa migliore, ricorda che un abbraccio può scaldare ogni cuore.